Grazie Presidente. Ovviamente non si può non essere d'accordo in principio su ciò che si realizza quando si costruisce un sistema di accoglienza, di inserimento nel mondo del lavoro anche per i più fragili, persone con disabilità in generale. Le iniziative come queste ne esistono diverse fortunatamente sul territorio di Roma Capitale e questo è uno dei motivi per cui come maggioranza e come abbiamo sempre fatto riteniamo di non poter appoggiare un caso singolo ma di dover costruire un sistema su cui lavorare. Quindi sicuramente è un tema questo che intenderemo affrontare in Commissione e in questo caso è una Commissione congiunta auspico con politiche sociali e commercio. Vedete ogni iniziativa ha degli aspetti che vanno analizzati fino in fondo ma sicuramente quello che è necessario fare è costruire un sistema e non puntare su iniziative singole così come abbiamo sempre fatto e abbiamo sempre cercato di fare. Il nostro voto è di assenzione.